è una cosa molto interessante perché va a favore proprio delle persone in Africa dove c'è la fame caro amico. Grazie. Il tuo nome è Bastià. Biana è bello. Quanto costa? Non è che il Papa Divo è una persona come le altre ripreso diciamo così nei momenti vari della sua vita e quindi è bello. Per noi è una persona significativa il Papa è bello anche perché i bambini lo amano, i grandi, tutti, nei diversi momenti della vita come una persona normale. anche il Papa è una persona di terra, è terreno. è un uomo politico, un uomo religioso. come vuoi dire, è un uomo di chiesa. Non sta bene a fare calendario, però l'ha fatto. Accettamolo. Mielo. 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 Grazie a tutti.